Sono stato giorni a rivolgere delle critiche anche dure a Italiano perché non mi era piaciuto quasi niente dell'atteggiamento che aveva visto contro il Milan, degli errori commessi contro il Milan, però diciamoci la verità, ieri la vinta Italiano, la vinta il calcio Italiano, la vinta questo atteggiamento aggressivo senza dare respiro agli avversari, la vinta Italiano, la stravinta in fronte di Gasperini e per un tempo non ci ha capito niente, io immagino che dall'assù nel suo angolo in tribuna probabilmente avrebbe voluto battere la testa nel muro perché veramente non c'era in campo l'Atalanta e questo non per il merito dell'Atalanta ma per il merito della Sorentina e allora se noi valutiamo partita per partita e questo è il nostro compito all'interno poi di un giudizio complessivo, beh se è stato assolutamente negativo, quindi da 4 italiani contro il Milan, contro l'Atalanta è stato no. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!